Mi chiamo Henry De Luca e sono stato testimone in Africa e in Tanzania del lavoro dell'Associazione LVA che si occupa di procurare acqua pulita nei villaggi. Una immensa quantità di famiglie ne è priva e se la deve procurare lontano caricandola sul collo, la schiena e i piedi delle donne mi dichiaro un portatore d'acqua. Sostengo la campagna Acqua e Vita della LVA. Dai un'occhiata al sito acquaevita.it e diventa anche tu un portatore d'acqua.